Ciao a tutti, un po' di tempo fa avevo fatto un test della batteria dell'Apple Watch 5 che potete vedere qua sopra. Insomma, il test non era andato benissimo, più o meno avevo scaricato per il 95% il mio Apple Watch 5 per una durata complessiva di 26 ore. Non molto soddisfacente, tanto è vero che dopo quel test avevo deciso di restituire il mio Apple Watch. Nel frattempo però in rete hanno iniziato a girare dei rumors che parlano bene di WatchOS 6.1 che ancora in stadio di beta, siamo alla beta 4, ma che sembra promettere davvero una maggiore autonomia. E quindi ero curioso, ma piccolo particolare, non avevo un Apple Watch 5, ma non mi sono scoraggiato e grazie al mio amico Edo, grazie Edo, ho potuto fare un test su un Apple Watch 5 equipaggiandolo con la beta 4 di WatchOS 6.1 per chiedermi e darmi la risposta che è ma la batteria migliora davvero con questo WatchOS 6.1 oppure no? Condizioni di utilizzo, Always On Display sempre attivo ovviamente perché altrimenti non avrebbe senso testare l'Apple Watch 5, notifiche attivate e parecchie, no GPS, nessuna attività fisica e soprattutto no LTE attivato. Ho iniziato questo test alle 23.40, poi ho messo Apple Watch subito in modalità teatro e aereo e sono andato a dormire. Al mio risveglio dopo circa 8 ore aveva consumato solo il 6% di batteria. Ottima notizia. Tolta la modalità aereo e teatro ho iniziato la giornata. Alle 10 ero all'86%, alle 13.40 ero al 71% e alle 18.40 la batteria era al 50% per chiudere la giornata alle 23.40 con la batteria al 35%. Quindi il 59% in 16 ore, circa il 3,7% l'ora che è significativamente migliore rispetto al risultato che avevo fatto con WatchOS 6.0 e poi e poi sono andato a dormire. E quindi ancora modalità teatro e aereo fino alle 7.55 quando mi sono svegliato con il 23% di batteria. Qui aveva consumato di più rispetto alla prima notte, circa l'1,5% di batteria ogni ora, comunque meglio rispetto a WatchOS 6.0 e poi e poi la giornata è andata avanti. Alle 11.40 ero rimasto con il 9% per poi concludere con il 4% alle 12.40 e con l'1 alle 14. E quindi? E quindi dopo tutti questi numeri dobbiamo ammettere che sì, effettivamente un miglioramento c'è. Perché se con WatchOS 6.0 abbiamo fatto 26 ore con circa il 95% di batteria, come potete vedere dalla scheda che va in onda in questo momento, con WatchOS 6.1 Beta 4 abbiamo fatto ben 10 ore in più, con un consumo di poco più dell'1%, quindi quasi la metà, nel ciclo notturno, e del 3,7% nel ciclo diurno. E quindi? E quindi si confermano due cose. La prima, la prima che WatchOS 6.0 è un sistema operativo effettivamente buggato, o meglio, male ottimizzato per la batteria. Se è vero che con questo 6.1 Beta 4 abbiamo un'autonomia migliorata di ben 10 ore. E 10 ore su 26 rappresentano il 40% di miglioramento. Quindi siamo sulle 36 ore. Naturalmente non raggiungeremo mai, secondo me, il livello di Apple Watch 4 senza Always On Display, che mi faceva tranquillamente le 44-46 ore continuate, ma Apple Watch 4 non aveva l'Always On Display. E credo che se Apple riuscirà a raggiungere, perché siamo ancora in una fase di Beta, le 40 ore continuative, beh, può essere considerato come un risultato, se non soddisfacente, quanto meno decente, e sicuramente comunque molto molto migliore rispetto alle scarse performance di WatchOS 6.0. È una delle poche volte in cui Apple manda fuori un prodotto con un sistema operativo davvero scarsamente ottimizzato. Vedremo quando questo OS 6.1 non sarà più in stadio di Beta. Lo proverò ancora. Non so con che Apple Watch. Nel frattempo, grazie Edo per avermi prestato il tuo Apple Watch. e ci vediamo al prossimo test, alla prossima review, che sarà con Amazfit GTS. Ciao a tutti!